18 armi raga senza armi ci siamo ragazzi 1 minuto e 40 all'evento forza wow wow sono in prima fila raga 1 minuto e 30 1 minuto spaccato signori e si parte 5 4 ci siamo ci siamo raga eccolo inizierà presto oh non si può no non potevo saltare dove sei travis ah sono io il vero travis attenzione ecco oddio ci siamo signori attenzione si ha già partito una canzone ci vuole vita eri qua per capire che canzone è oddio è arrivato guardate a destra chi è quella roba sta arrivando dove 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 a destra a destra del parco in alto è là lo sto indicando raga è là oddio no vabbè arriva travis no che c'è entra da dentro entra da dietro entra da dietro raga no vabbè no non ci credo che spettacolo no no porca miseria no sto sto impazzendo mo parte mo parte no ma bisogna salire wow guarda il palco come è colorato ma se mi metto qua lo vedrà pure meglio cavolo guardali che roba oddio 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 non posso costruire oh mio dio no 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 sto impazzendo idolo idolo guarda le scarpe guarda le scarpe no guarda lì guarda le scarpe guarda le scarpe non ti muovere oh mio dio raga ehi 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 sono salto di nuovo oddio 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 ciao davanti ciao da posto eccolo non sto capendo nulla ma c'è il super salto raga madonna è saltissimo ma salta in automatico ehi si io ehi vai bomber quanto cazzo è figo che top oh mio dio cazzo qua dobbiamo distruggere tutta la città per vederlo bene madonna di qua si vede benissimo shale dovresti vedere dove sono io oddio oddio che sta succedendo chi fa adesso oh mio dio oh mio dio mi ha indicato raga ha indicato me ne sono sicuro oddio una super velocità raga yuhu super velocità super salto c'è anche te shale si si madonna ro cosa sta succedendo oh mio dio mi stava pestando si è messa la maschera oddio vero si è messa la maschera ehi 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 si sta incendiando tutto che figliata porca puttana non so se vi ne siete accorti ma stiamo camminando sull'acqua che spettacolo ma si è sdoppiato che fai bomber ok cambio traccia fammela sentire no 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 il pazzisco il pazzisco il pazzisco che spettacolo questa è la mia preferita mio santo mio santo che roba no vabbè no bellissimo raga stasera si vola stasera si vola non so se anche il vostro pad ma il mio sta vibrando ogni 3x2 che figata ok è cascato oddio siamo sott'acqua si no senti qua Harry vado quanto è bella questa quanto è bella pure questa no oddio eccolo qua guardate in alto raga no le Air Jordan guarda le scarpe alle Air Jordan dio santo guarda le Air Jordan come sono fatte bene no vabbè oddio santo raga il mio pad sta vibrando di brutto anche mio è bellissimo no oddio no non ci credo che spettacolo che spettacolo guarda là oddio raga ma sta se ne sta andando dal suo anche il mio mi sono proprio sotto ehi 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 che sbo no vabbè no vabbè oddio guarda il mio quanto balla io vorrei farlo balla eccolo oddio mi gira la testa oddio che succede vinta ma sei tutti fatti qua raga siamo tutti fatti no se ne sta andando let's go oh mio dio che succede non capisco nulla siamo nello spazio siamo nello spazio no 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 stiamo andando all'isola ecco ma la vedo oddio sembra che siamo nello spazio dov'è lui wow siamo nello spazio che figata eccolo eccolo sta sul sulla su Marte dove è qua sulla luna tipo su Marte che cazzo è minchia raga no vabbè troppo troppo troppa roba ma che clipa ti sta registrando il video domani esce vorrei vedere quella cosa dove va oddio oddio bella che ci cammina sopra nuova traccia sta partendo oh mio dio si vola questa qui che c'è adesso non l'ho mai segnita neanche io dove cazzo stiamo andando cos'è una farfalla si penso album uno raga si gioca è la cosa squadra si è finita è finita è finita è finita dove siete scesi voi sono la siepio io sono la siepio dice che siamo in nove ok raga è finita si si a squadra Tati tu sei il rosso no il fabbro è vicino ok oh raga portiamoci a casa anche la vittoria reale grazie che cazzo di evento è stato bellissimo bellissimo è uno dei più belli che hanno fatto raga ma veramente bellissimo 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 tanta roba stupendo riuniamoci tutti se riusciamo io sono col fabbro si io arrivo ma noi sono tutti dai vediamo sta partita 25 26 morto Tati sta arrivando Tati vengo lì da te arrivo sulla carrozza reale ehi ehi vai Tati si ehi mi scusi quanto si paga per un altro concerto ve lo immaginate Travis ehi si ehi c'è le boom ehi ciao ciao ma dove sono tutti che due coglioni ragazzi cosa si fa dopo un concerto si mangia la pizza dobbiamo prezzare pizza shale shale ho detto dammi la pizza no è solo mia è solo mia ciao abbiamo vinto raga vittoria reale bella e vai senza fare nulla vittoria reale let's go tanta roba quindi ragazzi mi raccomando 10.000 mi piace per il prossimo video su fortnite codice creatore mi raccomando lo trovate in descrizione supportatemi assolutamente oggi abbiamo visto il corcetto di Travis Scott tantissima roba ragazzi vittoria reale senza far nulla perché vabbè si saranno schiatati tutti gli altri grazie la visione grazie di tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video grazie a tutti ieri